Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un altro video di Hardware App alle mie spalle c'è una preparazione di Windows per dei test che voglio fare su una 6.870 una scheda vecchiotta ma ho deciso di fare dei test con un PC qua sotto che ho di un mio amico che avevo sembrato poco fa con un Intel 5.820K la scheda madre è quella praticamente una X99ZD Cret Edition e un dissipatore a liquido che se la quale vuoi fare il nome è un Senon 120 V3 però quindi è quello compatibile con Socket 2011 che è quella appunto della scheda madre qua dietro di me alimentatore a un cooler Master Master Butter Light 700 che è questo posso prenderlo è questo 700 dovrebbe essere anche decente se non sbaglio per questa configurazione contando che il PC secondario che il primario suolo della Jean-Pierre ha una bestia della Madonna va bene come computer adesso lascio spazio ai test dopo vi faccio vedere un po' il computer come è venuto fuori per adesso non è ancora completo non è ancora completo non è ancora completo non è ancora completo Grazie a tutti. 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 a tutti.